Si doveva registrare un video ben diverso, dovevamo partire con quello che era l'analisi, ma non si può fare niente di fronte a una notizia del genere. Un saluto a tutti gli amici del corner San Doriano. Ci lascia dopo aver lottato per tanto tempo Sinisa Mialovic, la notizia purtroppo è stata confermata da tutti. Come ben sapete io sono relativamente giovane, però le emozioni che mi ha regalato quest'uomo, ma anche solo come allenatore nella stagione 14-15, se non erro arrivo anche nella 13-14 rilanciandoci, ma poi vedendo l'approccio alla vita, anche della notizia in cui è indimenticabile la conferenza stampa, in cui lui spiegò di avere questo brutto male. davvero è stato da ammirare col coraggio e ci lascia un uomo di calcio perché era davvero un fuoriclasse dentro e fuori dal campo, ma ci lasciava un uomo vero. Sul mio profilo ho scritto un uomo con i coglioni, un uomo con coraggio, un uomo che sapeva lottare e che ha lottato fino alla fine. davanti a queste cose però anche i leoni a volte purtroppo si devono arrendere. Questo video è fatto solamente per mandare un abbraccio alla famiglia di Sinisa e mandare un bacio fin lassù perché è stata ancora una persona strepitosa, purtroppo in questi giorni le notizie che stanno arrivando sono orribili. Dopo questa di Sinisa anche Gianluca, che ha lasciato la razionale per motivi di salute, speriamo che almeno lui si possa riprendere. Davvero le parole qui mancano perché è davvero un colpo al cuore, anche per chi come me non ha vissuto in mia persona, il giocatore l'ho vissuto però come persona, come allenatore. Con la Samp rispecchiava anche quello che era lui, perché quell'anno la Samp arrivò veramente lontano con la qualificazione ai preliminari di Europa League che poi andarono male. L'emozione che ci ha regalato Sinisa in termini calcistici, ma anche fuori al campo, ripeto, davvero una persona magnifica e purtroppo di fronte a questo non si può fare niente. Detto questo cercheremo di ritornare da domani o da dopodomani con le analisi, con quello che sarà il calciomercato della Samp, ma oggi ci sembrava doveroso salutare un uomo di calcio, un uomo forte e coraggioso come Sinisa Mialovic, ho i brivi da dirlo che ci lascia, ha 53 anni, è davvero una delle cose più brutte e fa capire questo anche quanto era grande Sinisa Mialovic. Mi sto commuovendo io, ho i brivi da parlarne io, che di lui ho vissuto veramente poco. Questo fa capire quanto era speciale Sinisa Mialovic, quanto ha dato Sinisa Mialovic. Detto questo torneremo a sorridere insieme parlando di questi colori, i più belli del mondo, ma oggi era doveroso salutare nella giusta maniera Sinisa Mialovic. Detto questo, il corner saldoriano torna ufficialmente dopo domani con l'analisi del calciomercato, però per adesso ci invitiamo a salutare il grandissimo Sinisa Mialovic. Da Mattia è tutto, da corner è tutto, sempre Forza Sam.